Quanto riesci ad esprimere quello che senti, quello di cui hai bisogno, a esprimere le tue percezioni, le tue emozioni, semplicemente a comunicare in maniera autentica all'interno delle tue relazioni e quindi a sentirti ascoltata, vista, amata. Questo è un tema che affronto molto frequentemente nelle sessioni del mio percorso, superare i conflitti per appirsi alla vita, e che ovviamente è molto molto soggettivo. Per esempio ho visto oggi, terminando il percorso con una cliente, che per esempio lei aveva questo sintomo dello stomaco chiuso perché sentiva che gli veniva ingiustamente tolta la libertà, da questo sindaco quando era piccola, la libertà quindi di essere se stessa, la libertà di esprimersi, la libertà di parlare attraverso delle ingiunzioni parentali dirette, quindi delle frasi proprio dette direttamente dai suoi genitori, come per esempio stai zitta, quasi fa come dico io, eccetera. Quindi vediamo che tutto ciò che noi continuiamo a perpetrare nella vita adulta, in realtà sono degli schemi che ci portiamo dietro dalla nostra infanzia, e che se non diventiamo consapevoli, non li attenzioniamo, non li trasformiamo, comunque continuano ad agire anche nelle nostre relazioni odierne. Difatti lei mi raccontava della sua frustrazione, del non riuscire quindi ad esprimere la sua opinione, soprattutto col marito, con la madre. Questo perché? Perché col marito magari aveva paura delle sue reazioni, aveva paura di litigare, con la madre aveva paura di ferirla. Quindi solitamente le persone che appunto tendono a essere molto adattate nel loro comportamento, derivano questo comportamento quindi o da un adattamento infantile, quindi dal fatto che sin da piccole sono state abituate a fare tutto quello che dicevano i genitori per compiacerli, per sentirsi appunto amate, viste e considerate, oppure come nel caso di questa cliente, per non far soffrire la madre, perché appunto lei aveva già sofferto, quindi in questo caso vediamo anche la presenza di un disordine, cioè la figlia che si vuole prendere cura della propria madre, quindi si preoccupa per lei. Tutto questo ovviamente porta ad una serie di conseguenze, che sono ovviamente diverse a seconda della storia personale, nel suo caso appunto a questo rancore che si manifestava con lo stomaco chiuso, e anche con questa sorta di sensazione, di blocco, proprio nel voler parlare, che appunto anche da un punto di vista dell'anatomia sottile coinvolge il nostro quinto chakra, visciuda, quindi il chakra legato alla comunicazione, quindi di conseguenza se noi non siamo in grado di ascoltare i nostri bisogni, non possiamo nemmeno comunicarli. Quindi volevo avvisarti con questo video anche che sono riaperte le iscrizioni per gennaio, per il mio percorso Superare i conflitti per aprirsi alla vita, e che c'è appunto questa edizione limitata di un mini percorso, aperto per altre cinque persone, vale a dire un percorso mini di quattro incontri, appunto dedicato a tutte le donne che si sentono in conflitto con se stesse, nelle proprie relazioni, presentano anche sintomi psicofisici, attraverso questo percorso, quindi io facilito la trasformazione di queste donne, quindi per poter alleggerire i propri sintomi, e conseguentemente per vedere qual è la relazione esistente tra il sintomo fisico, il sintomo psichico, e appunto le relazioni, quindi il modo di relazionarsi agli altri nella vita attuale, e come questi sono collegati ai propri schemi sistemici, agli schemi della propria infanzia, e non in ultima analisi, quindi una volta che abbiamo alleggerito questo carico, tornare ad occuparsi di se stesse, dei propri bisogni e dei propri desideri. Se sei interessata a questo tipo di trasformazione, puoi contattarmi in privato, oppure puoi compilare direttamente il form che trovi nel primo commento, per richiedere una call conoscitiva gratuita. Ti aspetto! Perchè!